insieme tipo fanno una schiuma enorme è un disastro anche dal punto di vista del contenitore che li va a contenere quindi direi proprio la A ok la A bene prima di miscelare due prodotti fitosanitari per un trattamento bisogna leggere attentamente la voce compatibilità beh preparare due soluzioni distinte e poi unirle per vedere cosa succede bellissima la B intanto le metto separate poi le metto insieme vedo un po cosa succede se non scoppiano vado avanti la B si tuttavia preparare una dose doppia di acqua perché i prodotti sono due quindi con doppia dose d'acqua va bene dai questa è la A sicuramente è la A il venditore deve sempre fornire la scheda dei dati di sicurezza dei prodotti fitosanitari acquistati come solito io faccio sempre delle analogie con i medicinali quindi penso al bugiardino dei medicinali nei medicinali ci deve essere sempre il foglio delle istruzioni direi di sì sì allora sì sempre mi convince no non è obbligatorio non mi convince sì se l'utilizzatore è professionale con partita IVA e per i prodotti fitosanitari classificati come miscele pericolose allora qui vi confesso che a lezione ovviamente abbiamo analizzato questa domanda lezione abbiamo analizzato tutte le domande però non sempre te le ricordi tutte qui io avrei detto come prima risposta la A non c'è dubbio deve sempre fornire la scheda dei dati di sicurezza per i prodotti fitosanitari acquistati direi sì ok però la domanda non si riferisce agli operatori gli utilizzatori professionali ma si riferisce anche agli utilizzatori non professionali lobbista quello di casa quindi quindi sarei caduto nello specchietto per l'allodolo quindi ho imparato dall'errore che ho fatto a lezione e quindi direi sì la C se l'utilizzatore è professionale questa mi ricordavo ok è giusta è la C anche se veramente ingannevole un prodotto fitosanitario registrato per difendere le colture floreali da una specifica malattia fungina si può impiegare anche sulla vite contro lo stesso patogeno allora se ho ragionato bene prima ho detto se vi ricordate la fiscida la fiscida lo posso usare per altre colture no ho già risposto a questa domanda quindi se il prodotto è registrato per i fiori non è che lo posso mettere sulla vite anche se ha la stessa malattia fungina dovrò usare un prodotto adatto alla vite quindi direi che è la B o la C no se non è ammesso in etichetta no perché bisognerebbe impiegarne troppo vabbè la C non si può nemmeno sentire quindi direi la B 9 B ok l'indicazione riportata in etichetta di un antiparassitario di una dose di 1,5 litri per ettaro equivale a 1,5 litri per 100 litri 1,5 litri per mille metri quadrati di terreno un ettaro sono 10.000 metri quindi direi 1,5 litri per mille metri è un po' troppo dosaggio 0,75 litri per cinque varia bastarda questa domanda perché ovviamente 5.000 metri e mezzo ettaro ok quindi un ettaro sono 10.000 metri e quindi 0,75 per 2 la C ok questa è matematica quindi qualunque quiz fosse anche di attitudinale di un concorso pubblico la risposta giusta è la C è matematica e la risposta giusta è la C 0,75 per 5.000 metri nel caso si debbano trattare 9.000 metri quadrati di terreno e la dose prescritta in etichetta sia di un litro per ettaro l'ettaro è 10.000 metri quindi un litro è troppo quindi io devo usare 0,9 ok vediamo allora cosa mi dice mi danno le opzioni usare comunque un litro e che cacchio se mi dicono che devo usarne un litro per ettaro non è che posso usare un litro per 9.000 metri quindi la A no se non servirebbe l'etichetta usare 0,9 litri e conservare il residuo mi convince gettare 0,1 litri e preparare la assolutamente nel terreno così sai che disastro ambientale pensate 0,1 litri di prodotto concentrato quindi è una cosa orribile da farsi quindi la B sicuramente ok è la B 0,9 litri conservo il residuo eventualmente mi diventa un rifiuto e che dovrò smaltire come rifiuto in riferimento ai a questa bellina per spiegarvi come a volte può accadere può accadere chi sta dietro questi decreti questi provvedimenti è un essere umano che cosa hanno fatto quando hanno pubblicato la banca dati poiché la domanda numero 12 è stata rimodificata a seguito di alcuni mutamenti osservazioni l'hanno modificata ma si sono dimenticati di togliere la parola risposta B questo è il documento ufficiale è la legata al decreto della regione toscana dove come vedete c'è scritto il riferimento ai prodotti fitosanitari autorizzati ritirati o revisionati esistono delle informazioni elettronicamente accessibili al pubblico rese disponibili le autorità competenti A no B sì sul sito web del ministero della salute C no non necessario non necessario basta rivolgersi al venditore la risposta esatta è la B non ci sto neanche a ragionare me l'hanno scritto loro mi fido che sia la B insomma ci diragiono sopra ma l'abbiamo già visto il ministero della salute è la fonte principale quindi questo grazie ringraziamo i compilatori e speriamo che esca questa così mi facilita ovviamente quando siamo dall'altra parte studenti tutti confidiamo negli errori altrui allora domanda numero 13 ovviamente confermo che era la B nel caso di acquisto di un prodotto fitosanitario la cui autorizzazione sia stata revocata e il prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un periodo limitato l'abbiamo già trovato il fatto che è stata revocata un'autorizzazione che aveva una data di scadenza tipo la puoi usare fino al 31 dicembre 2024 quindi l'autorizzazione è revocata ma era previsto l'utilizzo fino al 31 dicembre 2024 questo è il caso A l'utilizzatore deve informarsi autonomamente circa le limitazioni previste no quell'autonomamente c'è per la serie compro il prodotto e devo fare da me con tutto il rispetto che devi lasciare all'agricoltore no esiste l'obbligo di informazione da parte del rivenditore verso l'utilizzatore circa le limitazioni previste direi di sì il rivenditore cosa c'ha c'ha il prodotto in deposito sicuramente il ministero gli ha detto guarda questo prodotto non lo comprare più perché ho revocato l'autorizzazione quelli che ha in deposito non li buttare via continuo a venderli fino alla scadenza del 31 dicembre mi convince se il prodotto è in commercio significa che è utilizzabile no direi di no direi di no direi è utilizzabile fino alla scadenza ok è utilizzabile fino alla scadenza sul suggerimento del rivenditore bene partiamo al sotto argomento sul trattamento vedete vedete ora mi sono impallato troppo trattamento quali precauzioni occorre adottare per effettuando trattamenti in prossimità di strade abitazioni corsi d'acqua e colture confinanti precauzioni ok quindi sto dando dei fitosanitari vicino a case corsi d'acqua e colture di altri imprenditori e che magari non volevano dare i trattamenti quindi ovviamente devo stare più attento rispetto al trattamento che fa in mezzo al mio terreno dove intorno c'è solo mia proprietà nessuna precauzione tanto se il prodotto non è classificato pericoloso per l'ambiente ma la la butto via nessuna precauzione in assenza di vento direi che butterei via anche la b ok insomma sono vicino all'abitazione direi che attenersi alle distanze di sicurezza quindi in questo caso è uno dei casi in cui la risposta giusta è la c qualunque cosa ci sia scritta quindi attenersi alle distanze di sicurezza prendere tutte le precauzioni perché la nube irrorante non fuoriesca dall'appezzamento irrorato quindi non devo andare al si chiama deriva lo vedremo si chiama deriva questo fenomeno per il quale se c'è anche un po di vento o comunque il getto che spruzza il il mezzo ovviamente porta un po lontano io devo evitare di uscire dal mio terreno ok giustamente era la c cosa si intende per intervallo di sicurezza per le colture agricole l'abbiamo già visto l'intervallo di sicurezza è l'intervallo minimo di tempo espresso in giorni che deve intercorrere fra l'ultimo trattamento e la raccolta quindi prima di entrare nel terreno a raccogliere i prodotti e quindi è senz'altro la b perché perché la a è l'intervallo di tempo che deve intercorrere fra il primo trattamento e la raccolta quello che manca è l'intervallo minimo non è che io dopo che ho il trattamento se l'intervallo è due giorni il secondo giorno devo andare a raccogliere possa andare anche il quinto giorno il ventesimo giorno o non raccogliere quindi la a è sbagliata perché è comunque l'intervallo minimo tutti gli intervalli di sicurezza sono minimi come i termini del procedimento sono termini minimi o massimi diciamo il dies ad quem quindi bene era il minimo in caso di prodotti vegetali destinati alla trasformazione industriale surgelati congelati eccetera quindi la verdura si deve o no tenere conto dell'intervallo di sicurezza spero proprio sì ok no se i prodotti vengono lavati con acqua bollente no sì ok certo che vai sì sì non c'è dubbio la 3 sì per forza cosa bisogna fare delle sementi trattate con prodotti fitosanitari avanzate dalla semina quindi ho i fagioli i semi dei fagioli gli ho dato il trattamento con i guanti con tutta la protezione li vado a piantare mi avanzano un po di fagioli con sopra gli antiparassidari ok li devo la a è buffa li devo destinare all'alimentazione animale quindi li cuocio per gli animali con tutti i prodotti fitosanitari sopra così uccido tutti gli animali assolutamente no considerarle rifiuti pericolosi e smaltirli direi proprio di sì interrarle così si danneggia l'ambiente dai la b non c'è dubbio beh la b cos'è il limite massimo di residui l'mr l'mr la quantità massima di formulato l'abbiamo trovato il formulato che può essere versata nel terreno curiosa però c'è la parola massimo la quantità di formulato che può essere tollerata dalla cultura la quantità massima di prodotti fitosanitari delle eventuali impurezze prodotti di degradazione che può essere contenuta degli alimenti e bevante allora io direi che tutte e tre tutte e tre sarebbero giuste per la parola limite massimo perché tutte le risposte hanno quantità massima la b implicitamente ma diciamo che può essere tollerata ma significa massimo solo la c ha un'allusione ai residui perché mi dice che rimangono negli alimenti quindi io do un certo prodotto ricordiamocelo tutti i prodotti chimici che diamo in agricoltura un po rimangono nei prodotti agricoli e quindi un po me li mangio ma il limite massimo che è consentito dalla legge dopodiché quel prodotto altrimenti non può essere commercializzato quindi direi che proprio la c la quantità massima che è tollerato che possa rimanere ok si è la c con i prodotti fitosanitari a base di insetticidi possono essere trattati gli animali domestici oddio quindi posso dare un fitosanitario sul cane per evitare che prenda gli insetti ma solamente se non danno latte quindi il cane il gatto sì non mai ma una volta l'anno io posso spruzzare ok qui mai i prodotti fitosanitari si usano solo per lo scopo per cui sono stati prodotti ok non mai giustamente si rende necessario eseguire un trattamento in prossimità della raccolta quale tipo di prodotto occorre impiegare quindi mi immagino la scena io devo trattare la vigna e so che fra tre giorni devo raccogliere l'uva quindi devo fare un trattamento ma ho già fissato la raccolta fra tre giorni perché perché la devo mandare in produzione bene cosa uso a un prodotto fitosanitario non molto tossico tossico nocivo un prodotto fitosanitario che possiede un intervallo di sicurezza molto breve rispettando tale intervallo ma direi di sì se fra tre giorni devo raccogliere userò un prodotto fitosanitario che abbia un intervallo minore di tre giorni qualsiasi prodotto fitosanitario purché il raccolto venga lavato accuratamente prima della vendita tanto chi se ne frega ok la b direi di sicuro sì la b ok abbastanza logica questa domanda cos'è il registro dei trattamenti l'abbiamo visto nelle primissime domande è un quaderno dove si annotano le ore lavorate dedicate ai trattamenti con prodotti fitosanitari un registro richiesto dalla guardia di finanza per controllare le venditori sostanze chimiche un po troppo un registro dove vengono notate tutte le informazioni di trattamenti ve l'ho descritto all'inizio non sono le ore lavorate che se ne frega delle ore lavorate ci posso mettere anche due giorni ma quello che conta sono i prodotti quindi un registro dove vengono date le informazioni relativa ai trattamenti effettuati durante l'anno su ogni appezzamento o cultura quindi qui insomma con un po di ragionamento ci arriviamo ok vediamo un po sì ovviamente la c i prodotti fitosanitari non più utilizzati quindi quelli che sono in quel famoso deposito chiuso a chiave nel locale destinato devono essere conservati per almeno due anni per la progressiva inattivazione come se fossero bombe nucleari o chernobyl non mi convince devono essere conferiti a soggetti autorizzati come smaltimento di rifiuti pericolosi mi convince di più devono essere eliminati come rifiuti solidi urbani o sotterrato in un terreno trattato con lo stesso prodotto via questo spero sia un reato anzi è un reato sicuramente quindi la c è un reato la una sciocchezza devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi e certo sono rifiuti pericolosi domanda numero 10 i contenitori usati dei prodotti fitosanitari possono essere eliminati buttandoli nei cassonetti della nettezza no solo nei comuni con inceneritori è una sciocchezza enorme trabocchetto sono prodotti pericolosissimi ok i contenitori il bussolotto di plastica dove c'è stato dentro il fitosanitario è pericolosissimo è inutile sciacquarlo non lavi la lavastoviglie ok è un rifiuto speciale infatti assolutamente no quali parametri devono essere considerati per decidere come smaltire un contenitore usato per il prodotto fitosanitario la classificazione del prodotto fitosanitario le indicazioni riportate nella scheda dati il materiale in cui è fatto quindi se plastica va nella plastica se metallo va nel metallo se cartone va nel cartone il numero di vuoti prodotti in un anno quindi se ne faccio pochi riposto no no la classificazione quindi se un prodotto fitosanitario tossico andrà trattato come prodotto fitosanitario tossico per lo smaltimento quindi la di sicuro è la cosa può succedere se vengono contaminati con prodotti fitosanitari canali di irrigazione così si può accadere si fa manovra con il mezzo il mezzo si rompe un tubo sversa nel terreno ahimè succede gli imprevisti succedono e lì c'è un corso d'acqua un pozzo un canale di irrigazione si possono avere effetti nocivi per i pesci gli animali e l'uomo direi di sì non succede nulla non succede nulla se i prodotti non sono classificati come pericolosi per la salute al limite danneggiano l'ambiente dai è la sicuramente ma è la c'è dubbio i contenitori usati devono essere considerati rifiuti pericolosi sì sempre non mai solo in alcuni casi allora non mai lo scarto contenitori usati devono essere considerati sì 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 sempre ok sì sempre qualora si verifichino incidenti che possono provocare lo sversamento nell'ambiente di ingenti quantità di prodotti fitosanitari cosa è opportuno fare? avvertire immediatamente ARPAT che è l'agenzia della protezione ambientale della Toscana o la ASL o i vigili del fuoco cercando di limitare la dispersione del prodotto ma direi seguendole la A mi convince però non è detto che sia giusta evitare che qualsiasi persona entri in contatto con la sostanza fuoriuscita e disperdere il più possibile il prodotto lontano da luoghi abitati cavolo qui faccio un danno ambientale enorme no la B no evitare che le persone entri in contatto direi di sì ma è la seconda parte che è orribile C allontanarsi immediatamente darsi alla fuga e avvertire quanto prima la guardia forestale la A si avverte tutto il mondo della protezione ovviamente e poi nel frattempo limito la dispersione quindi faccio opere di contenimento certamente non mi allontano ok è la A è opportuno irrorare una coltura in presenza di vento? no non si lavora con il vento la deriva ok con il vento io non posso sapere se ciò che spruzzo può arrivare alle abitazioni e ai corsi d'acqua quindi se c'è vento si sta a casa e si fa qualcosa d'altro si fa all'uncinetto quindi si comunque si osservando l'anemometro tracciate di fumo questo è un bello specchietto per la lodole quindi osservo se l'anemometro gira troppo velocemente se il fumo si sposta no se c'è vento non si fa trattamento vediamo un po' questa è l'ABC altrimenti è inutile fare il corso quali rischi possono provenire dai contenitori dei prodotti fitosanitari? nessuno è sbagliata solo un deturpamento del paesaggio stupidata intossicazione ovviamente a chi lo riutilizza immaginate il contenitore anche se di vetro che contiene tracce di fitosanitario anche se io lo lavo benissimo e se lo lavo in lavastoviglie sono uno scemo perché infetto tutta l'abitazione e inquinamenti alle acque e al suolo oltre che creare un danno ambientale se lo lavo ovviamente nella lavastoviglie perché poi quell'acqua va in discarica quindi assolutamente la C bene 17 dove è opportuno manipolare i prodotti fitosanitari immediatamente prima dell'impiego quindi mi immagino la scena io vado ad acquistare il prodotto lo porto nel terreno dove lo devo utilizzare lo vado a miscelare insieme all'acqua nel contenitore che servirà per irrorarlo bene dove devo fare questa cosa manipolare il prodotto in un locale con porta munita di serratura separato dall'abitazione può essere su un tavolo sotto una tettoia nelle vicinanze dell'abitazione questa è quasi romantica come risposta la B la scarterei perché è un tavolo in un altro oggetto vabbè la B si scarta all'aperto in assenza di vento nel luogo più vicino possibile al campo da trattare eh la A o la C allora a prima occhio avrei detto la A in un locale con porta munita di serratura separato dall'abitazione però attenzione